La Convenzione regionale di Federanziani per il Centro Nord ha come obiettivo definire le linee guida per il secondo congresso della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute. La Corte di Giustizia Popolare è un organismo di federanziani e che vede come primum moments la valutazione delle criticità del sistema sanitario nazionale, la esposizione e la messa in luce di quelle che sono le soluzioni e un piano di sostenibilità a queste soluzioni che viene dato da 5 dipartimenti di economia sanitaria sul nostro territorio nazionale. Parteciperanno 6.000 delegate di federanziani, avremo le società scientifiche più importanti nazionali e internazionali che ci aiuteranno a rilevare le criticità nell'ambito del sistema sanitario nazionale per averne poi delle soluzioni concrete ed un piano di sostenibilità che verrà analizzato dai dipartimenti di economia sanitaria di 5 università sul nostro territorio nazionale. Altro obiettivo fondamentale è l'abbattimento degli sprechi di questo sistema che sono piuttosto evidenti a tutti e che potrebbero essere delle risorse ottimizzabili in funzione di dare una sanità migliore e tutelare ancora meglio il diritto alla salute dei cittadini italiani.